Il Movimento 5 Stelle è stato rifiutato da tutte le oligarchie presenti in questo Paese perché le mette veramente in discussione. Io ho simpatizzato per molte idee del Movimento 5 Stelle, non amavo alcuni eccessi, ho sempre simpatizzato fin dall'inizio, devo dire, in maniera laica, assolutamente laica. Ora poi ultimamente mi sono persino candidato, peraltro non ho accettato subito, quindi non sono stato eletto, forse dovevo farlo prima, ma sono ben felice di essermi candidato perché ho capito che queste elezioni erano decisive, cioè mi sono reso conto che si poteva cambiare il Paese. Devo dire che quello che rimane oggi è che esiste una forza antisistema, vera, che si chiama Movimento 5 Stelle, sulla quale si può discutere, ma che certamente ha rinnovato completamente il modo di fare politica. Io ricordo la famosa frase di Fassino, vedi Fassino, perché non fa un partito? Perché non lo fa? Quella roba lì, perché lo diceva? Perché si pensava che si potesse fare politica solo con i soldi, con le sedi. E invece Beppe Grillo e già Roberto Casaleggio, che era un genio, ricordiamolo, visionario, hanno fatto un partito che è arrivato persino al governo, cosa che era anche complicata da pensare, senza soldi, senza sedi di partito, ma con le idee che la democrazia diretta per chiude, cosa può significare? Vedi il caso di Rousseau, per la prima volta in questo Paese qualunque cittadino può proporre una sua legge, una legge, una riforma, metterla in quella piattaforma, può essere discussa da qualunque altro cittadino e si può fare una proposta di legge oggi tramite i parlamentari, come è giusto e ci mancherebbe altro che sia, che può cambiare in meglio la vita di questo Paese. Un padre che non può vedere la sua bambina, perché la legge in Italia non funziona benissimo per i poveri padri separati, e fa una proposta di legge su Rousseau. È un inizio di democrazia diretta. Riccardo Fraccaro, che è un ministro parlamentare... Biondo, ci diamo biondo. Detta così sembra un po' Alice del Paese delle Veraviglie, c'è un mondo anche straordinario, popolato da lecca-lecca, in cui... Perché? Dove stavano i lecca-lecca? No, un mondo di grande favola, in cui va tutto benissimo, in cui non ci sono ombre anche nel meccanismo di Rousseau di selezione della classe dirigente. Allora, Rousseau, questo ce l'hanno detto, l'inchiesta del Garante, una serie di inchieste giornalistiche, è una ciofeca, perché non è tecnicamente all'altezza di quello che promette di fare e di essere. No, abbiamo gli strumenti tecnici... L'ha detto il Garante della Privacy... L'ha detto c'ho feca, il Garante... No, questa è la mia traduzione, diciamo, da uomo della strada. È uno strumento di partito, però su questo non c'è nulla di male. È uno strumento di partito, sì, ma deve funzionare, perché noi abbiamo una cosa bellissima, che è questa idea della democrazia diretta. Poi però deve funzionare, perché per esempio, chi è che ci dice che con i controlli veramente bassi, non le famose lobby di cui giustamente Dino Gianrusso parla, non si possano infiltrare dentro il voto online. Questo non ce lo dice nessuno, al contrario, il Garante della Privacy ci segnala una serie di problemi tecnici. C'è un omicidio che avviene prima di quello del movimento, del movimento libertario, per esempio, e poi improvvisamente e misteriosamente vira verso Putin, verso il suo linguaggio di potere, oscurantista, assolutamente non libertario. Dopodiché l'altro omicidio, e questo lo compie scientemente, purtroppo, Gian Roberto, è che comprime i diritti della rete libera. Per cui oggi noi, più che essere dei fruitori dei social, siamo dei fan. Se uno è iscritto al movimento, deve difendere sempre il movimento. Se è del PD, deve difendere sempre Renzi o chi per lui. Ma la rete non nasce su questo. La rete nasceva anche nell'idea di Gian Roberto per mettere in condivisione su problemi, prima di tutto. La scalata politica di Luigi Di Maio è stata sicuramente resa possibile dal fuoriscena piano piano, lento, drammatico, doloroso di Gian Roberto. Il capo politico, ora, è vero, quello che dice Dino, lui ha ragione Nicola sulla questione della democrazia diretta, ma noi abbiamo un capo politico per la miseria che decide le candidature quando il sogno di Gian Roberto Casaleggio era quello che non ci fossero i capi bastone locali e invece adesso non è più. Non è assolutamente vero che le candidature le ha scelte Luigi Di Maio, ti stai confondendo col PD e con Renzi, perché io lo dico da candidato, lo dico a candidato. C'erano le primarie, c'erano le parlamentari, no, ma ragazzi, ma non è andata così però. Ehi, il capo politico che può decidere sì o no su una candidatura, ho sbaglio. Attenzione, se non ci fosse stata una legge cambiata con gli nominali, si facevano solo le parlamentarie, ok? Che sono state fatte regolarmente e pulitamente. E a differenza di altri partiti, non c'è stato un segretario che... Sapete come sono andate le... non per fare il suo discorso, ma... Ah, lo sai come sono andate tu, come sono andate le uninominali, le candidature a proporzionare uninominale nel Partito Democratico? Ma no, l'abbiamo raccontato. Le crisi di nervi, le telefonate, i pianti. Vuoi che ti dico i miei colleghi giornalisti che erano commis di essere in lista? Abbiamo raccontato tutto. Allora, signori, c'è un problema importante. La democrazia al 100.000% è un'utopia, come è un'utopia il comunismo al 100.000%. Tutte le cose, i sistemi perfetti. La legge dei gas perfetti, di Gaius Sack, ok? Si chiama legge dei gas perfetti, ma i gas perfetti in natura non esistono. Quindi la legge ha delle varianti. Allora, è il partito, è il Movimento 5 Stelle, è il movimento politico, e la forza politica, secondo me, più democratica che esiste da 50 anni a questa parte.